La meditazione sul respiro. Perché praticare la meditazione sul respiro? Ci sono situazioni della vita che causano stress, paura, preoccupazione e che puoi gestire meglio praticando la meditazione sul respiro. Oltre a questi problemi pratici evidenti possiamo anche far fronte alle nostre paure riguardo quello che è fuori dal nostro controllo. Sono molte le situazioni stressanti. Siamo preoccupati per la salute dei nostri genitori anziani e viviamo con ansia il continuo susseguirsi di notizie dai media, navigando fra fake news. Non ultimo nel nostro caso le paure e le preoccupazioni legate alla gravidanza e al parto. E come sappiamo lo stress psicologico ha conseguenze negative sulla salute. Lo stress psicologico comprende la nostra capacità di gestire le situazioni difficili, la nostra resilienza e ha anche risvolti negativi sul nostro fisico. In particolare è dimostrato come lo stress indebolisce il sistema immunitario. Come gestire questo stress? Respirando lentamente e consapevolmente. Il modo più semplice per calmarsi sotto stress è abbassare la frequenza respiratoria e concentrare l'attenzione sul proprio respiro. Concentrarsi sulla respirazione è una forma di meditazione facile da praticare anche per un principiante. Si può fare ovunque, da seduti, in piedi oppure camminando in uno spazio privo di distrazioni. La meditazione sul respiro è praticabile in ogni momento e da tutti ed ogni volta che un'esperienza è un'esperienza unica, momento dopo momento. Risulta facile provare e portare l'attenzione sul respiro, però ci vuole anche pratica e allenamento per riuscire a mantenere l'attenzione sul flusso della respirazione per un periodo di tempo prolungato. Se all'iniziale sensazione di pace data dall'esercizio si sostituisce poi un turbinio di pensieri, questo è normale perché pensare è l'attività consueta della mente e la pratica della meditazione porta l'attenzione a quello che succede alla mente e quindi accorgersi di pensare e essere consapevole di quello che succede nella mente non è da considerare un errore. Se inizi a distrarti con pensieri inclusivi, ricordi o proiezioni future, porta l'attenzione sul pensiero, prendi atto del contenuto dei pensieri che si affacciano alla tua mente e rivolta la tua attenzione sul respiro, così da lasciarli andare. Rallentando il respiro saremmo in grado di rallentare anche i nostri pensieri. Quali i benefici per la salute praticando la meditazione sul respiro? La meditazione guidata anche sul respiro può aiutarci a raggiungere uno stato piacevole di presenza a noi stessi, grazie al fatto che portiamo l'attenzione intenzionalmente su una cosa sola, il respiro. L'obiettivo è togliere l'attenzione da preoccupazioni, pensieri cadastrofici o pensieri depressivi legati a sentirsi soli o impotenti. Nel concentrarci sul respiro riusciamo a sminuire i pensieri negativi, aiutandoci così a gestire le nostre emozioni, rallentando il respiro saremmo in grado di rallentare anche i nostri pensieri. Studi scientifici hanno provato che la pratica di mindfulness modifica due percorsi di stress nel cervello, cambiando sia la sua struttura che l'attività in regioni che regolano i processi dell'attenzione e dell'emozione. Secondo una review di studi fatta nel 2015, le persone che praticano la meditazione per la riduzione dello stress e nell'ambito di una psicoterapia cognitivo comportamentale hanno meno probabilità di reagire a situazioni di stress con pensieri automatici negativi o con reazioni emozionali poco utili. Inoltre coloro che praticano meditazione hanno maggiore capacità a essere presenti nel qui e ora e rimuginano di meno. Secondo gli studiosi la meditazione guidata sul respiro è anche in grado di ridurre la tensione muscolare, il battito cardiaco, entrambi che sono sintomi di stress. E sono sempre più convinta che la maggior parte delle difficoltà del meditare sia quella di fermarsi un attimo e cominciare a meditare. Un po' come quando si deve tornare la voglia di andare a correre o di andare a piscina o di fare sport. La tentazione di lasciare perdere è di rimandare a un altro momento, di trovare qualsiasi scusa e sempre lì pronta a far saltare qualsiasi buon proposito. Eppure si sa appena è finito di correre, di nuotare, di meditare sei felice di averlo fatto e ti senti meglio. Quindi proviamoci. Se sei un principiante della meditazione per prima cosa devi sapere che è una pratica che ha come obiettivo una maggior padronanza del corpo, della mente e questa si raggiunge iniziando a concentrarsi sul proprio respiro. Meditare significa concentrarsi sul qui e ora e quello che devi fare adesso è semplicemente respirare. Inizia a ispirare, a espirare profondamente e concentrati sull'aria che riempie i polmoni e che poi li svuota lentamente. Cosa visualizzare? Chi pratica la meditazione sul respiro può visualizzare cose diverse. C'è chi per esempio ispirando immagina di assorbire dentro di sé una luce bianca che simbolizza l'ispirazione di tutto il creato che viene raccolta nel cuore, mentre ispirando immagina una sorta di luce grigia con cui pensieri negativi, preoccupazioni e paure vengono allontanate dal corpo. Oppure c'è chi immagina di assorbire una fonte di luce gialla ad ogni ispirazione e di vederla diffondersi in tutto il corpo ad ogni ispirazione. La visualizzazione che si vuole adottare è personalizzabile e la cosa più importante è quella di trovare lo stato di pace e rilassatezza a cui dovrebbe portare ogni forma di meditazione.